Un buon inizio di settimana a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Sono 638 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio delle emergenze, quanto rilevato dall'unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento, quello di ieri sera. In totale nell'isola sono stati eseguiti 4.598 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 128, di cui 23 in terapia intensiva, mentre sono 454 le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 15 guariti, più altri 14 guariti clinicamente. Salgono a 27 invece i decessi. Sul territorio dei 638 casi positivi, complessivamente accertati, 415 sono stati registrati nel Sassarese, 102 nella città metropolitana di Cagliari, 57 a Nuoro, 55 nel sud Sardegna, quindi 9 a Oristano. Nuove misure intanto, le abbiamo viste, le abbiamo sentite nel fine settimana, nel weekend, nuove misure per far fronte alla crisi economica che sta colpendo l'Italia a causa della grave emergenza sanitaria. Sabato il Premier Conte ha parlato di nuovo alla Nazione per comunicare l'erogazione, l'anticipo meglio di oltre 4 miliardi di euro ai comuni per far fronte alle esigenze delle famiglie indigenti. Il Premier Conte ha parlato di nuovo alla Nazione sabato sera, poco dopo le 18.30. In una conferenza stampa, che lo ha visto insieme anche al Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha illustrato le nuove misure per fronteggiare la grave crisi economica che sta colpendo il Paese di pari passo a quella sanitaria che resta in primo piano. 4,3 miliardi sono stati anticipati agli 8 mila comuni italiani, questo per far fronte al momento difficile per tutto il Paese, ma in particolare per quelle famiglie che hanno necessità urgente. 400 milioni di euro inoltre sono stati stanziati per buoni spese, per ciò che concerne l'assistenza in questo senso a chi si trova in condizioni disagiate. Conte ha parlato anche della cassa integrazione ordinaria in deroga entro il 15 aprile e dei 600 euro che spetteranno a professionisti autonomi. A grandi linee è questo ciò che è stato comunicato e sulle decisioni prese dal Governo c'è da registrare l'intervento del primo cittadino di Alghero. Le nostre pressanti richieste iniziano a dare i primi frutti. Dai sindaci della Sardegna è arrivato un contributo importante alla definizione dell'accordo che sarà definito e reso nota a livello nazionale. Così il sindaco conoci sulle misure adottate a favore dei comuni per le fasce socialmente più deboli. Insieme all'emergenza sanitaria siamo pronti a gestire quella economica e sociale, ma lo possiamo fare solo con interventi diretti ed immediati del Governo. Questo è solo un primo passo. Dobbiamo puntare al sostegno immediato alle nostre attività economiche. È in corso di definizione infatti in queste ore un importante accordo tra il Governo e i comuni attraverso l'Anci per assicurare l'acquisto di genere alimentari della fascia più povera di popolazione. Sulla base di questo accordo, che sarà formalizzato nei dettagli nelle prossime ore, si legge nella nota, mediante una specifica ordinanza, si potranno finanziare buone spese e buoni pasto per famiglie indigenti o in condizioni di assoluta necessità. Le risorse finanziarie saranno assicurate dallo Stato e le misure saranno gestite direttamente dai comuni attraverso la rete dei servizi sociali. Nessuno dovrà o potrà rimanere senza pasti e alimenti, precise il Sindaco. Chi fosse in necessità o sapesse di condizioni di bisogno particolari potrà attivarsi contattando i numeri comunali per le emergenze. Un fondo istituzionale per le famiglie in difficoltà ad Alghero. Lo propongono i consiglieri comunali di centro-sinistra. Se c'è una cosa che fa sperare nella capacità della nostra comunità di superare questa pandemia, la generosità e la capacità di donare che la nostra città ancora una volta sta dimostrando, una delle problematiche che tocca particolarmente le corde è l'allarme sociale alle porte. Come aiutare le famiglie che rischiano di non sapere come fare a mettere in tavola pranzo e cena o che a breve potrebbero avere difficoltà a pagare la bombola? Il nostro governo sta mettendo in gioco ingenti risorse. A breve vigileremo perché tali esigenze trovino spazio nelle pieghe del bilancio comunale. Ma leggendo i social si rende conto che i cittadini vogliono dare il loro contributo, forse anche per vincere quella orribile sensazione di impotenza che l'isolamento porta con sé. È un fiorire di proposte di aiuto, di condivisioni, di iniziative di solidarietà. Noi per primi come amministratori siamo continuamente interpellati da cittadini che ci chiedono quali siano i canali per poter contribuire. Proseguono dal centro-sinistra chiedendo quindi di attivare un fondo istituzionale affidato a un dirigente con proprio regolamento e conto corrente. Si può fare in fretta per prepararci a fronteggiare l'emergenza e dare la possibilità alla generosità della nostra comunità di trovare un canale trasparente, sicuro e facilmente identificabile, e concludono gli esponenti di opposizione. E su Alghero non si conoscono i dati sui contagi, sulle persone assistite in questo momento per l'emergenza coronavirus. Dal centro-sinistra algherese chiedono che la regione li renda noti ed è soprattutto Pietro Sartore di Peralghero a farlo. Nel fine settimana però con un video il sindaco Mario Conoce ha precisato che i dati ufficiali non sono in possesso del comune, ma sulla base delle persone che ricevono assistenza. Il primo cittadino dice che la situazione è incoraggiante e sotto controllo. Ad oggi ancora non conosciamo i dati comune per comune. Pare che neppure gli amministratori, neppure i sindaci che sono la massima autorità sanitaria del territorio li conoscano. La regione fornisce esclusivamente dei dati aggregati per macroambiti, quindi noi conosciamo i dati della provincia di Sassani ma non sappiamo distinguere tra i dati di Port Torres, di Sassani stessa, di Olbia, di Alghero. Questo sinceramente secondo noi è sbagliato e può produrre solamente dei danni, nel senso che i cittadini hanno la necessità di essere informati per capire se i loro comportamenti, se i loro sacrifici, se il loro senso di responsabilità stia producendo o meno dei risultati in termini di limitazione del contagio. Il nostro sindaco, il sindaco di Alghero, dovrebbe, se conosce questi dati, comunicarli, informare la cittadinanza, se non li conosce dovrebbe chiederli con forza alla regione Sardegna. Il nostro sindaco ama ripetere che lui preferisce lavorare in silenzio e che in questo caso io credo che lui debba invece sbattere i pugni sul tavolo, alzare la voce, pretendere che la regione ci faccia conoscere questi dati, dati semplici, dati che ci dicano quanti sono i positivi nel nostro territorio, quanti di loro sono ricoverati, quanti invece sono in isolamento domiciliare, quanti siano le persone sottoposte a quarantena obbligatoria, quanti siano i tamponi che vengono effettuati, in maniera tale che tutti noi, tutti i cittadini, possano rendersi conto se le misure messe in atto stiano funzionando o se comunque bisogna intensificare e migliorare ulteriormente i comportamenti virtuosi, secondo me, che già i cittadini stanno ottenendo. Io penso di essere d'accordo con il sindaco di Milano, quando dice che questi dati molto spesso servono soprattutto per soddisfare qualche curiosità. Io devo dire che i dati ufficiali i sindaci non li hanno, abbiamo i dati delle persone che dobbiamo assistere e quindi devono ricevere un servizio dall'amministrazione comunale e questo lo stiamo facendo. I dati della nostra città in linea di massima appaiono positivi, però non abbiamo la titolarità come amministrazione comunale di divulgare dati incompleti o dati che comunque non sono precisi. Io penso che sia un momento importante, per cui la comunicazione è fondamentale, la comunicazione sui dati dei positivi, dei posti in quarantena, aspetta la protezione civile, noi ci atteniamo a questa direttiva e pensiamo che sia utile per tutti ascoltare ciò che ci viene detto. Ripeto, siamo in un momento emergenziale, siamo in un momento che qualcuno definisce di guerra, noi abbiamo dei compiti e vogliamo svolgere i compiti che ci sono stati attribuiti senza andare oltre. Quindi sui dati, ripeto, è necessario che ci sia un'attenta analisi da parte delle autorità competenti, soprattutto quelle sanitarie, che ci vengano trasmessi a noi sindaci quelli relativi alle assistenze che dobbiamo fare, ma senza andare oltre. Però devo anche sottolineare il fatto che ad Alghero esiste, mi pare, un andamento positivo. Posso sbilanciarmi su questo, naturalmente, senza andare oltre. L'amministrazione c'è, è presente, è con voi, siamo pronti ad affrontare qualunque tipo di richiesta. Abbiamo attivato insieme agli altri sindaci anche le richieste per superare, oltre che la crisi sanitaria, anche quella economica, quella sociale, che ci sta già mostrando le prime avvisaglie. Insomma, il video completo potete vederlo anche sul nostro sito catalantv.it oppure sulla nostra pagina Facebook sindaco Conoci, che ha parlato tra l'altro anche della situazione nel centro resilienziale anziani di Fertili, ha parlato di situazione buona, dove una scrupolosa attenzione ha messo al riparo gli ospiti. Una precisazione doverosa, visti i numerosi casi che si sono registrati anche in Sardegna, ma possiamo dire in varie parti d'Italia, appunto nelle case di riposo. Macchina amministrativa in questi giorni a lavoro, dunque, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, ma anche per la ripresa che ci si augura possa avvenire a breve, dal decoro urbano alla programmazione della pulizia delle spiagge, gestione della Poseidonia, ma anche c'è allo studio un intervento strutturato per la riduzione della Tari. Anche in un momento di grande emergenza, non si ferma il lavoro della ditta incaricata, la Ciclat e dei controllori dell'amministrazione. In questi giorni riprenderanno infatti le operazioni di diserbo dai marciapiedi e dalle strade. Lavoriamo senza sosta su più fronti, diamo precedenza a tutto ciò che attiene alla protezione civile, ma ci sforziamo il più possibile anche per non dimenticarci della cura che questa città merita, è di predisporre tutti quegli atti propedeutici alla ripartenza e nonostante l'emergenza abbiamo il compito di guardare avanti, spiega l'assessore Andrea Montis. In tema di rifiuti, invece, stiamo cercando, di concerto con l'assessore Caria, tutte le soluzioni in nostro potere per garantire soprattutto al tessuto economico della nostra città, costi minori che agevoli nella ripartenza, che speriamo possa avvenire al più presto. Stiamo studiando un intervento strutturato per una riduzione della taria a favore delle attività economiche cittadine, che dovrà vedere la luce entro il termine di approvazione delle tariffe per l'anno 2020. In parallelo, scriveremo a Lanci per formulare proposte al Governo affinché gli enti locali siano nella condizione di applicare agevolazioni e riduzioni tariffarie nel rispetto degli equilibri di bilancio. Intanto, anche in tema di Posidonia, l'amministrazione si muove. Nella giornata di sabato è stata affermata dal Sindaco l'ordinanza che permetterà, in attesa del completamento dell'impianto di messa in riserva nella zona industriale di San Marco, di non affrontare ulteriori costi di movimentazione di comuni di Posidonia creati nell'anno 2019. A breve verrà comunicato dove sarà posizionato il nuovo sito di stoccaggio temporaneo per la Posidonia che verrà rimossa dalle spiagge secondo contratti genessere. Non ritengo siano operazioni urgenti e necessarie in questo momento di crisi, conclude l'assessore all'ambiente, ma vogliamo provare a farci trovare pronti. Lo dobbiamo e i nostri operatori che in questo momento soffrono particolarmente questa situazione. Cerchiamo di avere cura dell'oggi, ma con visione futura. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Sono già più di 40 le attività che effettuano consegne a domicilio che hanno diritto al censimento avviato dall'assessorato allo sviluppo economico e accessibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero. L'elenco, sempre aperto in aggiornamento, comprende supermercati, alimentari, farmacie, negozi di prodotti agricoli, alimentatori di prodotti ittici, ristoranti, pizzerie, servizi postali, gas e combustibili, officine meccaniche. Ogni attività è in grado di garantire la consegna dei prodotti a domicilio che dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Una rete che si va ampliando giorno dopo giorno tramite l'adesione con il modulo di segnalazione attività reperibile all'indirizzo del Comune di Alghero nella sezione consegne a domicilio e numeri utili. Ciascun esercente può segnalare attraverso il modulo allegato la propria attività indicando a beneficio del cittadino il numero di telefono da contattare. Il proprio servizio potrà essere segnalato trasmettendo il modulo debitamente compilato all'indirizzo mail sportello-comune.alghero.ss.it Ed è tutto fermo, anche lo sport ovviamente. Quest'oggi sentiamo l'opinione di Francesco Pepe, presidente del PGS Nord Sardegna, che ha parlato delle difficoltà per le associazioni che gestiscono strutture, ad esempio, ma anche per le tante società, anche ad Alghero, che partecipano ai vari campionati e manifestazioni. Sono tutti i collaboratori di redazione per questo spazio dedicato. Sappiamo benissimo che l'avvento di questo coronavirus del Covid-19 in Italia ha di fatto, oltre a paralizzare tutta una macchina lavorativa generale con danni irreversibili, ma non siamo qui a parlare di questo chiaramente, ma di fatto parliamo del fatto che ha bloccato totalmente la macchina sportiva nel bel mezzo di una stagione. Sappiamo benissimo che attorno, dell'importanza delle associazioni a livello territoriale, ma sappiamo benissimo anche che attorno alle nostre associazioni gravitano un numero impressionante di operatori, allenatori, dirigenti, collaboratori, con gli atleti, i praticanti stessi, ma anche gli accompagnatori. Tutte persone che gioco forza, come dire, spendono il loro tempo per far sì che le macchine siano sempre oliate nella miglior maniera possibile. E di questi giorni, in pratica, questo mio più cappello è proprio una lettera a tutti gli effetti, è fatta per la recapitata praticamente alla giunta CONI. Per essere protagonisti di una svolta epocale, cioè il definitivo rilancio sociale delle parti sportive di base in Italia, è far sì che vengono messe un po' da parte tutte le beghe che ci sono giornalmente nell'organizzazione delle macchine sportive, che parla anche a livello burocratico, quindi passano anche il riordino dei tavoli, i programmatici del terzo settore a mettere fine alle guerre di condominio tra enti, di promozione sportiva, federazioni e anche associazioni stesse. L'importanza con tavoli congiunti di non mandare indietro dei cospicui finanziamenti che generalmente vengono persi per il ripristino dei nostri impianti sportivi. Insomma, tutto quello che serve per portare avanti veramente in maniera ottimale la situazione sportiva in Italia. Sappiamo poi che purtroppo tutto gravita attorno ai soldi, sappiamo che tutte le nostre, la gestione di palestri pubbliche e private, scuole di ballo, ginnastica, piscina, ci mettono in mezzo tutto, attività ludiche, pressi calcistici, volley, basket, che hanno dei costi veramente abnormi, soprattutto quando ci sono delle situazioni di tipo private, i costi sono altissimi. Secondo me, e comunque in questa missiva porto l'attenzione che è indispensabile una moratoria freezer di sei mesi per le utenze, un contributo super sostanzioso sui canoni di locazione che vengono richiesti a queste associazioni, che ripeto, fanno dei grandissimi sacrifici per arrivare a pareggio totale la loro attività, un sostegno agli istruttori abilitati che sono delle vere eccellenze perché vanno su tavoli formativi veramente molto alti e quindi praticamente l'occasione per non disperdere le opportunità che generano una crisi, quindi ripensiamo veramente alla macchina lavorativa senza dimenticare anche il sostegno che meritano tutte le associazioni che fanno anche attività di tipo federale, parlo ad Alghero, abbiamo tante eccellenze, dal calcio al futsal, ginnastica acrobatica, ritmica, nuoto, quelle che gravitano attorno alle piscine, tutti hanno bisogno di questa fase in un sostegno, è indispensabile a questo punto veramente un tavolo di interpretazione che faccia superare la crisi. E nei prossimi giorni ascolteremo anche altre opinioni sul tema sport e non solo. E in chiusura di Tg, anche oggi siamo pronti per mostrarvi le foto che ci avete inviato per la rubrica Alghero resta a casa, insieme ai bambini e ai loro disegni anche tanti amici a quattro zante. Per la nostra rubrica Alghero resta a casa, oggi oltre ai vostri bambini e anche tanti animali. Loro sono Luna e Stella, Sissi e Lillo. Direttamente da Cagliari, Rampel. Questo è Giuseppe di sei anni con il suo disegno. Lui è Zeus. E ha sei anni. Taiki. Seiya con il suo bel disegno. Lei è Nicole. Loro sono Andrea e Aurora, sette e tre anni. Anche Paco resta a casa. Questa è la piccola Rihanna con il tanto piccolo Theo. Ringo. Ringo. Charlie. Molto elegante. Anche Luigi resta a casa. Loro sono Mimì e Melani, nove e otto anni. Gioele e Milo. Lei è Fatima, di sette anni. Luna, che di anni ne ha tre. Ed ecco Chiara, di otto anni. Chiudiamo la nostra rubrica con un bel collage. Ecco Wilson, Cipolla, Nutella, Chicco, Thor, Golia, Ade e Felix. Abbiamo ancora tante foto da farvi vedere. Vi ricordiamo, come sempre, potete inviarle al numero WhatsApp 351-137-3747. Vi invitiamo ovviamente anche a visitare il nostro sito catalantv.it, la nostra pagina Facebook. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci.